Bentornati e bentrovati, siamo di nuovo su Smite con un rant, no, con un tutorial, non proprio, diremo che è un po' un misto perchè, allora ho provato Atlas, ho provato un nuovo personaggio di Smite, per chi è curioso di sapere il suo kit e tutto il resto c'è un tutorial sul canale in italiano Allora, l'ho provato in qualche partita, di cui una contro i bot, l'ho provato con... cos'è? Anche no, cioè perchè non ho provato con giocatori veri e propri perchè, a parte che è impossibile giocare a quest'ora, a quell'ora a cui l'ho provato Secondo siamo in piena settimana, quindi è un po' impossibile beccare partite decenti, più che altro partite in cui io posso, anche se faccio schifo, che mi carriano un po' E seconda cosa, è un po' impossibile prenderlo a prescindere perchè è uscito sì e no due giorni fa, quindi probabilmente ci sarà ancora una marea di gente che l'ho provato Però, voglio discutere con voi i difetti almeno che ho provato sulla mia pelle, che ho sentito cosa c'ha che non va questo personaggio, cosa c'ha che va, più o meno I difregi difetti, che l'avevo già detti, ma così Allora, cominciamo con parlare un attimo delle statistiche, a questo momento io sono a livello 20 con Atlas e non ho assolutamente nessuno strumento, quindi nessun modificatore di statistiche E posso vedere le statistiche dal negozio ovviamente Allora, abbiamo 80 quanto di basic damage, 1.18 di velocità d'attacco, 890 di mana, 13 MP5, 84 di physical protection, quindi è un guardian che va più sulla physical di protezione 48 di magica, di protezione magica, 2330 di salute massima, che è tanto per un gara, è abbastanza, non proprio sopra, tanto sopra la media ma è buono Senza strumento ovviamente, 24 MP5 e 651 di velocità di movimento E una cosa sul velocità di movimento che mi è, sono chiaro, sono molto contento, è che scala un po' di più sulla velocità di movimento, nel senso Ne grande molta di più di quanto sembri Perché all'inizio, la prima volta che l'ho provato sul, mentre facevo il tutorial, ho detto, è molto lento Però lì stavo a livello 5, mentre a livello 20 ho notato che anche con semplicemente uno strumento di velocità di movimento Tipo Relic Dagger Il personaggio è molto più veloce di quanto sembri Però ci abbiamo un problema Non prende assolutissimamente nessun tipo di magical power Di per sé Nei livelli, nel senso Molti c'hanno Critical chance What? Perché sta nel critical chance Demoni creep Molti, tutti i personaggi, più o meno, penso Non so sicuro se ci siano altri support o guardia che fanno la stessa cosa Comunque guadagnano potere, o meglio la statistica di attacco nel livello Per esempio un 90, un 20 punti Comunque un pelo ce l'hanno Non so, potrei sbagliarmi tantissimo Pensare che anche tutti i guardia un po' prendano punti Però Lui non guadagna assolutissimamente nessun tipo di magical power Se non dagli strumenti Il che lo rende molto, molto Zero impatto praticamente Perché fa solo danni base delle skills E il dato tank E assolutissimamente Le sue abilità non scaleranno con niente Quindi praticamente sarà sempre in più zero Come vedete il numero Blu all'interno dei numeri Nelle parentesi Quello rappresenta quanto del vostro magical power O meglio, quanto della vostra statistica D'attacco Scali sulle abilità Lui non prende potenza magica al livello E' pesantissima questa cosa Perché di solito un po' di magical power Alla fine ci sta, ci va sempre Anche se è un pochissimo Per esempio Come Ares Ares per esempio Anche buildarlo tank Permette So che prendo sempre Ares ad esempio Però è per di Ares per esempio Prende sempre Anche se è buildato tank Con le aure per esempio Prende del magical power Quindi le sue abilità Delle scaling Delle danni aggiuntivi Lo fa Lui no Purtroppo no Anche se è buildato full tank Purtroppo non avrà mai magical power A meno che tu non gli dai proprio magical power Non gli dai strumenti di attacco E ho pensato tipo Non è che è babbizzato un po' più aggressivo Ci ho pensato anch'io Però Ho notato che Ha vari difetti a secondari Che se tu buildi Lo buildi in maniera Offensiva Tenda a cadere un po' Di quanto riguarda altre cose Però andiamo avanti Quindi la prima Almeno il primo Cosa che Per questo non è proprio una critica Ragazzi Prendetela come Prima di giocare il personaggio Sappiate questo Perché questi sono vari difetti Di ogni personaggio Ogni personaggio Ha sui difetti ovviamente Prege difetti Seconda cosa che ho notato Allora Partiamo dalla passiva La passiva Ci mette Una maledetta La vita Per caricarsi Ma veramente tanto ragazzi Che stiate facendo danni a un god Che stiate facendo danni a un minion Che ne prendete ancora di meno Di energia della passiva Voi ci mettete Tantissimo Per caricarla E tutta questa cosa Che ci mettete tanto C'è anche un punto deboli Di questa cosa Ovvero che Non è che l'attacco base Parte Quando volete voi No Parte a prescindere Se voi state in piena State caricando La vostra passiva Con gli attacchi base Per esempio Ho detto Vabbè Mi manca poco carico Con gli ultimi attacchi base Se per sbaglio Voi state facendo La combo in pieno Della vostra Combinazione Della vostra combo Di attacchi base L'attacco base Andrà Partirà Non si può Fermare Praticamente Non è che poi scegliete Di annullarlo Oppure Una volta caricato L'attacco base Partirà Nel prossimo attacco base Voi lancerete Partirà Purtroppo è così E a volte mi ho notato Che sembra partire Anche senza che voi vogliate E c'è anche un difetto Di questo attacco base Ora non so se è un bug Penso sia un bug Però Ho notato che Quattro volte su Tot Su cinque Il vostro attacco base Vedi L'attacco base Bosenziato Che fa danno ad aria Fa il tremble Non infligge il tremble C'è scritto tremble Sul nemico Ma L'ho visto Non l'ho visto Proprio Subirlo Ma magari era perché C'aveva crack Odrò redaction Oppure cose così Però Vedete Non lo si nota Nemmeno il tremble Quindi dico che Alla fine L'attacco base Per mettere così tanto tempo Di carica Per un'attacco base Potenziato Che a malapena si sente Il tremble O che Ad esempio Sui minion Ma anche a dire Che posso utilizzare Una combo specifica Per caricarlo Proprio facilmente Sui minion Perché guadagno Un diecimo della potenza Della energia Con i minion E i minion Per esempio Io non li ho visti Stannati Letteralmente Io l'ho usato Per esempio Contro dei minion E io i minion Non li ho visti Stannati Dice Due secondi Di tremble Io non ho visto Assolutamente Nessun secondo Di tremble Praticamente Ma proprio Ovviamente E parlando sempre Di questa passiva Voglio parlare Un attimo Della prima abilità Cioè Gli attacchi base Potenziali ad aria Io ho pensato Magari serve Per caricare Se vuoi caricare Più velocemente Con i minion Anche se guadagni Meno cose Magari Magari la lanci Contro dei minion Tutti ammassati Tu guadagni Un po' più Velocemente Energia C'ha senso Dice Ho detto C'ha senso No Ci mettete Veramente Tantissimo E non è che Come tutte le passive Che hanno cariche Ti danno un effetto Particolarmente utile A parte l'attacco base Per esempio Che ne so Non è che Ogni energia Che c'hai Scali in qualche maniera O ogni energia Che c'hai C'hai un tot Di protezione Lui non ce l'ha Queste cose Purtroppo Quindi diciamo Che è un guardian Iper aggressivo E ho pensato Allora sarà da solo Purtroppo no Perché il suo clear È veramente pesante Veramente lento Especialmente Early game Penso che Vabbè L'attacchi Manca a dire Che sono gli attacchi Il problema Degli attacchi Base potenziati Che è il collo Il Come dice Il costo di mana No perché Alla fine Rimane fisso Quindi non è che È eccessivo Che va avanti Nel tempo Non è che scala Nel tempo Quindi è sempre 5 di mana Per un attacco base È che Relativamente Ci mettete Veramente tanto A caricarlo A meno Questa è stata La mia cosa Se facessero il contrario Nel senso Che con i god Guadagno di meno E con i minion Guadagno di più Perché Anche se facciamo Tipo 3 minion Guadagno Un decimo Della energia Su ogni minion Tre decimi Di energia Alla volta Sono sempre pochi Cioè Stiamo parlando Un'altra cosa Che non mi è piaciuta Che non Che ho notato Che ho visto Molto Come dice Molto Un po' Però Per Per due secondi Di tremble Che nemmeno Si notano E per un attacco Base Che potenziato Che 8 bonus danni Per livello Che neanche scali Sulla potenza magica Che Non hai Perché non hai Potenza magica Alla fine Non mi sembra Molto Utile Per quanto Mi riguarda Passiamo All'altro Punto I Cooldown Mamma Mia Quanto Cooldown C'ha Ragazzi Non avete Idea Senza Buildarlo Cioè Sarà Una necessità Buildare Cooldown Assurdamente Cioè A meno Un 20% Lo dovete avere Perché Adesso Sono senza Cooldown Adesso Vi ripeto Che io Adesso Sono senza Cooldown Senza strumenti Senza poteri Non c'ho Nessuna statistica Potenziale Niente Praticamente C'ho base Abbiamo A livello Voi considerate Questo A livello 5 Ecco Mettete Un livello 5 Anzi Faccio Così No Sbagliato Scusatemi Andiamo A livello 5 Vi faccio Vedere Subito Il problema Più Facilmente Così A parte Che Non so Signamente Come Startare Perché Niente Utile A livello 1 Praticamente Da solo Allora Abbiamo 15 Secondi 4.5 A livello 2 Della prima Skill Ed è tanto Ragazzi 11 secondi Per una Skill Eh Però Vabbè C'è posta Dici Vabbè Magari Scala Di più Dici Vabbè Poi arrivi A 13 Secondi Magari C'è schiaffi Un 20% 18 secondi De cooldown C'è posta La seconda Skill 16 secondi Fissi Che non Scala Con Tempo O livello Quindi Saranno Sempre 16 secondi Seconda Terza Abilità 16 Secondi Fissi Che non Scala Ulti 90 secondi La ulti Ci può Stare 90 secondi Magari Ho detto Ripeto C'è schiaffi De Cooldown Redaction E qui Diciamo Un po' Di più Ad esempio Con 20% 10% 20% Dovrebbero Sare 80 secondi Nemmeno Qua Diciamo Andiamo Sui 13 Circa Nemmeno Ma 16 Secondi A livello 5 Per Una Combo Perché Alla Fine Ho notato Che Se tu Non fai La Combo Con Atlas C'hai Poco E Niente Perché Il tuo Rallentamento È Veramente Basso Posso Assicurarvi Che il Rallentamento Di Atlas È Veramente Basso Perché Non scala Niente Scala Con gli Attacchi Base Con La Sua Power Quindi Non lo saprei Dirvi Perché Veramente Ho notato Questo Problema Con Il Cooldown E Non Far La Con Il Costo Di Ma Perché Il Costo Di Ma Alla Una Certa Sembra Poco Ma Late Game Diventa Veramente Alto Perché Alla Fine Cercate Di Fare Più Cose Possibili Ora Il Punto Ho notato Questo Che Forse Ha a che fare Col Fatto Che Adesso C'è Un Ability Specifica Per I Support Ovvero Che Molti Scegliono Come Terzo Strumento Contando Lo Starter O Senza Contando Lo Starter Il Un Pride One Perché Di Solito Il Pride One È Buono Il Pride È Sempre Buono Diciamo Perché Evita Sempre Con lo Scudo Evita Cooldown Ed Action Eccetera Io Non sono un fan Di personaggi Che non so Fisici Con il Pride One Per esempio Con Ares Così Quello Lo faccio Ma Su personaggi Che hanno Ulti A distanza Non L'ho Mai Visto Tanto Però Non Mi è Mai Piacciuto Tanto Però Io Ho provato La Blind Evolence Perché Ho detto Vabbè Se devo Stare attaccato All'amico Ho bisogno Di avere Proprio di Sustain Ho fatto Compassion Poi provavo Mette Vabbè La build Ad S È Praticamente Questa Poi Vabbè Dipende Da che cosa Avete Conto Ci sta L'Earth World Che Poi Se fanno Oppure Rettamente I Gauntlet Sovregniti Perché La sovregnita È Diventata Un Master Ormai Terzo Strumento Dipende Da quello Che avete Ripeto Se non Dovete Non volete Farvi Non dovete Farvi Mai 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 I Gauntlet Come terzo Strumento Perché Non avete Il tempo Di farmarli Ragazzi Non avete Il tempo Di farli Rinunciateci Proprio E fatevi Magari Un'alta Aura E Poi Vabbè Dipende Se ci sta Il critico Avversario Spettral Oppure Qualcos'altro Per esempio Adesso Io Dovrei Avere 20% 30% Di cooldown Sì Ho 30% Di cooldown Con un botto Di salute Come vedete Quindi Il punto giusto Il punto Focale Di Atlas È che C'ha un sacco Di salute Ma Parliamo Sempre Di cooldown Abbastanza Altini Vabbè Adesso Con 30% È così E farsi una build Così Si potrebbe stare Ma Early game È veramente 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 Difficile Specialmente Se il tuo avversario Sai dei punti I tuoi punti Deboli E ci sono altri punti Debi che adesso Ne parlerò Allora Vedete Poi Per infliggere il tremble Dovete prendere in pieno L'attacco base Dove Il nemico deve stare Al centro Più o meno Più o meno Al centro dell'esplosione Altrimenti Non Allora Passiamo All'altra cosa Passiamo Dalla 2 Ok Il pull Abbiamo detto Incredibile È una mini Ulti di Ares Più o meno Specialmente Con l'astrolabe Posizionato E cose così Però ho notato Il difetto principale Ovvero Se io Afferro un nemico Letteralmente Così E poi Vabbè lo lancio Così Il mio avversario Il mio alleato I miei alleati Non possono colpirlo Io ho pensato Che questa abilità Fosse un po' come La ulti di Ferrier Cioè che afferra il nemico E poi i miei alleati Possono massacrarlo Mentre io lo tengo fermo Purtroppo No Non è come Perché ho notato Questa cosa Purtroppo Tipo Avevo Kernos Che Ho mi offerrato Un avversario Kernos ha ultato Su di me Praticamente Per prendere anche L'avversario E l'avversario Non ha subito Niente Praticamente Neanche i danni Posso capire L'effetto di controllo Perché Beh Se sotto il mio effetto Di controllo Non puoi essere Non puoi subire Due effetti di controllo Contemporaneamente O meglio Se non sei Se non sei Però Il mio pool Praticamente È come se È come se li rendesse Intergettabili Praticamente Ed è un problema Perché Se è veramente Una pool così eccezionale Praticamente Io l'unica cosa Che ho notato Di divertente È stata Utilizzarla Per lanciare I nemici Contro la La torre Solo quello Sono riuscito a fare Una cosa Che è abbastanza Counterabile Semplicemente Stando lontana Come facevo Come facevo Con Con Sobek Come si fa Con Sobek Tu sai che Sobek Ti può pullare Ti può tirare Sotto la torre Ti allontani Quindi È abbastanza Counterabile Anche questa cosa Considerate che Se l'avversario Conosce Atlus Sa che cosa Fa Atlus Possa Counterabile Facilmente Parliamo Della 3 La 3 È un C'ha un difetto Enorme Che è una cosa Che mi ha fatto Abbastanza Ambistellire Da quando L'ho copito Perché non L'ho capito Subito Ma quando L'ho capito Mi sono Incazzato Abbastanza Perché Hanno messo Questo affetto Secondario Su qualsiasi Una marea Di salti Di scatti Di abilità Che si caricano E cose così Ma su un personaggio Come Atlus Che gli deve Stare vicino All'avversario Praticamente Che gli deve Andare incontro Tu non ce l'hai messo Un'abilità Del genere Io ti vorrei Ti vorrei Cioè Veramente Non è Knock up Immune Ragazzi Praticamente Stavo contro Un sobek In lane Contro Col carry E praticamente Lui Semplicemente Ha fatto Il tail whip E mi ha bloccato Lo scatto E quindi Qualsiasi cosa Io volessi applicare Un rallentamento Danio Cosa sia L'avversario Non l'ho potuto fare Perché Nel momento stesso In cui sono lasciato L'avversario Mi ha bloccato Istantaneamente Quindi stiamo parlando Di Un'abilità Che Sembra buona Ma alla fine Se io la utilizzo Nel momento sbagliato E l'avversario Si può Può reagire Mi ferma Cioè È veramente Sul Come potete Spiegarvelo Per esempio Posso fare Delle combo strane Tipo Lo pullo Con A distanza A distanza Senza Metterlo A distanza Ravvicinata E poi Uso la 3 Per dargli Un corpo Specifico Un corpo Speciale Un corpo Danno Io per fare Una combo Timo In solo Non scala Non scalando Di potere Magico Alla fine Non fa Così tanti danni La sua skill Che fa più danni È il dash Letteralmente Fa 300 di danni Base Ed è Abbastanza Dici Però Senza avere Cose secondarie Tipo Senza avere Statistiche secondarie Di attacco Penetration O magari Che ne so Una riduzione Di qualche cosa Tipo Con Un frenzy Oppure Una Sander Non ha Il potenziale Di fare Dei danni Eccessivi Secondo me Comunque Ci sono Dei difetti Ci sono Dei difetti Perché Tutti i personaggi Ce l'hanno Ovviamente Ed è Anche se Volessi fare L'iperaggressivo C'ho poco e niente Non ho Effetti di immunità Effetti di controllo La ultima Per esempio Non l'ho vista Incredibile Per esempio Non è Quella Riduzione Di protezione Che dice Non la si Percepisce Magari perché Non l'ho usata bene In combo Con tutte le mie abilità Oppure perché Non l'ho Sto parlando di Uno contro uno Magari in multiplo Quindi in team Fight è un po' meglio Però Non l'ho notata Per esempio Fa pochissimi danni E anche se La focusso Direttamente Facendo 280 Di danni Base Non 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 l'ho sentita Proprio Cioè Il fatto è che Anche se io carico L'attacco Con l'attacco caricato Con la ulti Focusata Cioè Con il raggio Che posso fare Dopo 5 secondi O quando lo riattivo Non ho sentito Il danno Non ho sentito L'impatto Infatti non c'è Perché ho visto Personaggi Sopravvivere Tranquillamente Anche l'attacco caricato A livello massimo Cioè Perché non scala Perché non Il danno Non è che poi fa Tipo Oddio sta scappando E faccio così Niente Li rimbalzava Specialmente contro tank Perché consideri che Ok C'ha la taglia di radiazione Riducono le difese Manco Quello Perché alla fine Ho notato che La build Che ormai ci sono Specialmente per i tank O per i solo O per i guardian Quello che così È talmente tank Che Uno shred Ci fa poco e niente Praticamente Quindi Non lo so Potrebbe avere Bisogno Ha bisogno di Secondo me Di cose secondarie Per esempio Avete visto che ho fatto Una comba adesso Ho fatto lo scatto L'ho rallentato L'ho colpito con lo scatto E poi ho fatto il tremble Quella potrebbe È una combo L'ho fatta Però Alcune Alcune volte Il mio tremble Non si è applicato E non capisco perché Non so se è un bug Ma se è un bug Si può risolvere Se non è un bug Se è voluto A sta cosa È un problema Perché Non è che ci abbia Degli effetti assurdi Atlas Se non Col pull Speciale Quella distanza O col pull singolo Cioè La cosa più buona È stata Tenere fermo Un nemico Con quello lì Mentre il mio abbleato È stato Ha lanciato Una specie di Una ulti Una cosa in linea retta E ha preso Tutti i bersagli Buono Ma se senza Da solo Praticamente Può far Niente Se non ha Un alleato Vicino Da dei alleati Che fanno Un burst di damage Più alto Del suo Perché Alla fine La combo è Tiro l'astrolabo Li tengo fermi In un punto Tiro la mia ulti E mentre Li carico A testa bassa Se non hanno Non so scappato Non so se una cosa È lì Colpisco il raggio Caricato anche Perché alla fine La combo è Questa Questa Ulti Perché come vedete Non parte la ulti E tutto il resto E poi Se Hai caricato L'attacco base Fai l'attacco base Alla fine La combo è questa Però Specialmente come support Di danni Non ne hai Sei più Da effetto di controllo E da tank Mentre Buildarsi solo Non è che l'abbia provato Solo alla fine Perché lo dovrei Però devo continuare a provarlo Perché Tre game Sono niente Praticamente Al momento La build solo È una delle migliori Che ci sta Praticamente Secondo me Vabbè Questo La valo Dovete considerare Se prendete Quello o quell'altro Bulwark E poi Tecnicamente Dipende Da che cosa State giocando Cioè Di solito L'Engine Tempero Se c'hanno Tante cose Oppure Del Divine Rune Se c'hanno Considerando che è stato Potenziato adesso Il Divine Rune È ottimo E poi Cioè Vedo il Tirannico Dipende Dipende Di chi avete contro Alla fine L'ultimi strumenti Ciò Sono strumenti di danno Per esempio Così ho 265 Di potenza È già qualcosa 25 6 Bisogna vedere Una full combo Cosa faccio E adesso ve la faccio vedere Questa è build Solo Questa è build da solo Andiamo contro un altro Guarda abbastanza Tenta Anche se Tecnicamente Non ha strumenti Avete notato Che il mio raggio Non gli ha fatto niente Sì Letteralmente Gli è passato Ma non gli ha fatto niente Perché c'è un leggero coso Seconda cosa Un altro problema Del dash È che Se io Vengo bloccato Il dash va in cooldown Quindi Ah e Non fa danno Contro il minion Quindi il suo clear È Nesistente quasi Almeno per quanto mi riguarda Precisamente Per esempio La prima cosa che ho notato È stata subito Che non ha un clear Ha un clear Veramente pesante Perché tipo Ero Livello 1 Sono andato A pulire il campo Del buff Ovviamente Come support Perché quello Devo fare come support Livello 1 Ho pensato Che cazzo tiro Che inizio Ho pensato Ho iniziato con la 1 Ho detto vabbè Inizio con la 1 Avevo preso benevolence Ma vabbè Quello dipende da perché Volevo provarlo con benevolence Di solito si builda con quell'altro Ho fatto vabbè Mi faccio i gauntlet Mi faccio Questo Nemmeno Nemmeno questo Perché neanche l'ho fatto Per sbaglio Per sbaglio Non l'ho fatto Non ci ho pensato Ho fatto pozioni E una pozione di mana extra Non ci ho pensato Dovevo far meglio il coso Sono andato al campo Ci ho messo 20 secondi Quasi Perché gli attacchi base Caricati Non fanno Un cazzo Wait what? Scusami È un bug? Ok Questo non l'avevo notato Se non è un bug Allora sono stupido io Cioè io ho la seconda abilità Attiva a livello 1 Non è possibile sta cosa Non dovrebbe esistere No Non mi pare ci sia stata ragazzi Non mi pare ci fosse No no Quando l'ho provato non c'era Sono stato sicuro Quindi o è un bug Perché Ho cambiato livello In continuazione Oppure no Perché non dice Da nessuna parte La puoi avere a livello 1 Infatti non dovrebbe fare Neanche danni Non dovrebbe Neanche fare danni Ah Si è proprio bugato tutto Ok vabbè Non dovrebbe Perché non fa danni Quindi non dovrebbe fare niente Non serve a niente Vedi si Se è bugato il gioco Se sta a bugare il gioco Comunque Non dovrei avercela Io senza Senza se magari Se io mi fossi fatto questo Diciamo Vogliamo con Ovviamente Con il classico strumento Che serve da support Ovvero il Land of the god Ovviamente Dovrei avere Meno Meno mana Meno Così dice Meno Meno pozioni Notate che il mio clear Anche con Land of the god È una merda Come faccio io A pulire il campo Del mio Scary Così Me lo spiegate E considerate Guardate quanti danni Sto prendendo Ci ho messo 10 secondi 15 secondi Non è fattibile Almeno non A early game Penso che Non mi pare Non puoi comprare Due End of the god Purtroppo Perché Non si può fare Però No Forse Se cambia il meta Dove il carry Devi fare il campo Al carry Si potrebbe fare Però No Poi è strano Perché Ho sbaglio O non ammazza Neanche più i minion Piccoli Land of the god Quindi c'è Boh Quindi In poche parole Questi erano I difetti Di atlas Spero che Abbiate capito In qualche maniera Tutti Il mio punto Di vista Praticamente Ovviamente Manca a dire Lo build di danno Allora lo build di danno Fai come fanno Molta gente Che builda danno Sotto L'ho fatto È normale Che faccia un po' Più di danno Però rimane sempre Gli stessi difetti Del kit Alcuni difetti Non è instoppabile Questa abilità Non è instoppabile Ha un cooldown Altissimo Quindi devi Darti cooldown Non passa Attraverso il minion Passato attraverso il minion Non gli fai danno Praticamente La tua attacco base A volte Ti sbagli E lo pass E lo lanci Per sbaglio Quindi non funziona Il tuo pull Non è come la ulti di ferry Che ti permette Di far far danno Agli alleati Io a meno Questo notati Ma se ne sapete Di più Voi ovviamente Ripeto Sempre disposto A sentire Le vostre ragioni All'interno Nei commenti Ci vediamo In un prossimo video Io Vado Perché Che oggi Purtroppo Da fare Perché purtroppo Siamo in un periodo Molto Occupato E niente Ci vediamo In un prossimo video Ragazzi Vi ricordo Vi ricordo Con un gamepad Ma non si potete A questo punto Bye bye